3, 2, 1, olè! Buonasera a tutti, grazie, è il secondo santo Natale che il Buon Dio mi concede di passare in vostra compagnia. Sono orgoglioso di quello che insieme come squadra stiamo costruendo. È un ministero sfidante, complesso, che dà soddisfazione, che ci permette di toccare con mano il stato completo che la squadra porta a casa. Ovviamente penso sia uno dei più obbligati perché sono tre ministeri in uno. Quando hai in mano la mobilità, il diritto al lavoro e la sicurezza degli operatori e dei fruitori di 20 milioni di persone al giorno, devi provare a sbagliare il meno possibile. Quando parlavo di squadra, quello che ho imparato io è che da soli non si va da nessuna parte. I risultati li porti a casa se sei una squadra d'eccellenza e io devo dire che ho trovato al MIT una squadra di assoluto livello. Quindi vi ringrazio per la passione che ciascuno di voi ci mette. Sicuramente avremo altri tre anni per accendere altrettanti alberi. C'è un po' troppo rosso su quest'anno. L'anno prossimo andiamo sul blu. Andiamoci una sconfatura di blu. Scherzi. Scherzi amato. Quindi io adoro le luci. Sono rimasto bambino. A questo punto di vista, grazie. E augurio a voi e alle vostre famiglie. Grazie un po' e buona parte a tutti. 3, 2, 1, ole' Grazie un po' e buona parte.